Ora è davvero tutto pronto. Alla pubblicazione del calendario di eccellenza ha fatto seguito quella del girone C di promozione che vedrà coinvolte ben 11 formazioni irpine. A Bellino, Mariano, Baiano, Carotenuto Mugnano, FC Avellino, Grutta, Lioni, San Martino, San Tommaso, Serino e Siconolfi. Un girone composto in maniera diversa rispetto alla scorsa stagione. Faranno parte del raggruppamento C, infatti, ben 4 formazioni provenienti dalla provincia di Benevento. Vale a dire Forza e Coraggio, Montesarchio, Paolisi e Ponte. Ed una invece dalla provincia di Salerno, la San Severinese. A differenza della scorsa stagione, nella quale, nastri di partenza, le favorite erano chiaramente Virtus, Savelino e Declanese, quest'anno si prospetta un campionato maggiormente equilibrato. San Tommaso, Serino, Grutta e Carotenuto Mugnano hanno allestito organici per essere protagonista. Così come ci ha provato il Paolisi, che tra le Beneventane sulla carta è quella più accreditata per disputare un campionato di vertice. Da tenere d'occhio anche San Severinese, Montesarchio e Dariano, possibili outsider della stagione, così come l'Abellinum di Gianluca della Rocca, che nelle scorse stagioni ci ha abituato a veri e propri miracoli sportivi. Nella prima giornata di campionato ci saranno alcuni test molto interessanti. Il big match, anche se solo alla prima giornata, sarà disputato al San Severino di Mugnano del Cardinale, dove si affronteranno Carotenuto e San Tommaso. Non poteva esserci invece esordio migliore per il Montesarchio al suo ritorno in promozione. I Caudini affronteranno nel derby tutto Sannita e il Paolisi di Francesco Sgambati. Da tenere d'occhio anche la gara tra Serino e Dariano.